A me non mi è piaciuto per quanto riguarda in particolar modo questa riforma della scuola nell'atteggiamento dei sindacati, tantomeno l'atteggiamento del governo. Purtroppo si ribadisce il fatto che la scuola viene vista come un grande ammortizzatore sociale che punta poco alla qualità, molto al bacino elettorale che ha guardato sempre a sinistra. Ricordo che le 100 mila assunzioni sono partite da 150 mila, sono arrivati a 100 mila, non sono una libera scelta del governo che voleva prendere 100 mila insegnanti, sono un'imposizione d'Europa che ha detto che questi insegnanti devono prenderlo. Questa scelta però è stata fatta non guardando chi in questi anni ha più contribuito a tenere in piedi la scuola, parlo per esempio di quegli insegnanti nelle graduatorie d'istituto, quegli insegnanti che si trovano non riconosciuti dei diritti, magari anche delle abilitazioni fatte, che improvvisamente si vedono scavalcati da altri. Dunque dovremmo far tornare anche all'interno del mondo dell'istruzione, e ovviamente parlo in particolar modo del corpo docente, dei criteri oggettivi di valutazione che possono veramente finalmente premiare il merito, perché anche in questo caso si vedono, come diceva, e penso anche condividere in parte Taddei, quando diceva che le famiglie devono avere una buona istruzione perché questa deve essere la nostra finalità, dare un buon servizio agli studenti, questa è la finalità della scuola, ma dall'altro lato credo anche tutelare i bravi insegnanti, perché purtroppo si vede in molti casi dove chi magari si impegna, si aggiorna durante la sua vita professionale, dà un ottimo servizio agli studenti e messa esattamente sullo stesso piano di chi invece non lo fa e magari le persone brave devono superire questa mancanza. Allora ragioniamo su quello e su quello siamo disponibili a ragionare, se invece deve essere semplicemente l'ennesima sparata renziana, dove va in televisione 100.000 assunzioni e vi va tutto a posto, penso che non facciamo un buon servizio né agli insegnanti né tantomeno agli studenti.